Bene, buonasera, allora con il Sottosegretario Gozzi che è la delega, come sapete, all'Unione Europea, ai rapporti con l'Unione Europea e con il Ministro Martina, comunichiamo un pezzo del lavoro del Consiglio dei Ministri, un altro pezzo che è quello relativo allo Sblocco Italia e così via verrà comunicato con più calma domani. Quindi darei subito la parola per l'importantissimo provvedimento che il Ministro Martina oggi ha portato, l'approvazione definitiva del Governo e che riguarda la programmazione dei fondi europei, uno dei pilastri di stimolo all'economia che si unisce a quell'altro provvedimento molto importante che è già contenuto nel decreto competitività per aiutare appunto il settore agricolo in maniera importante e decisiva. È il frutto di un lungo lavoro, adesso lui ve lo riassume, ha una consistenza anche numerica molto importante di circa, di oltre 50 miliardi solo di fondi agricoli a cui vanno aggiunti poi di oltre 50 miliardi di fondi europei che sapete sono sotto invece la responsabilità mia e quindi questo lavoro molto importante, molto condiviso dalle regioni è stato oggi portato alla nostra attenzione e mi sembra giusto che il Paese abbia questa buona notizia. Prego Ministro. Grazie, me la cavo con, diciamo in pochi minuti, però intanto ringrazio il Governo per aver approvato, sostenuto l'impianto di questo progetto molto importante che noi abbiamo sviluppato, condiviso e costruito con le regioni in questi mesi. Come è stato detto prima dal sottosegretario del Rio, stiamo parlando dell'applicazione 2014-2020 della PAC, la politica agricola comunitaria, revisionata dopo le novità intercorse in questi anni nei passaggi parlamentari e comunitari. Parliamo per l'Italia di una dotazione di 52 miliardi di euro in sette anni, quindi una cifra molto consistente, suddivisa sostanzialmente su due grandi, attorno a due grandi pilastri. Un primo pilastro di 27 miliardi di euro totali, circa 4 miliardi di euro l'anno, saranno a disposizione nel nostro Paese direttamente con i cosiddetti aiuti diretti, i pagamenti diretti, cioè alle aziende. Un secondo pilastro molto consistente di 21 miliardi, saranno a disposizione, circa 3 miliardi di euro l'anno, saranno a disposizione per finanziare le cosiddette misure del secondo pilastro, quelle dello sviluppo rurale fondamentalmente gestite attraverso le regioni. A questo aggiungiamo anche un finanziamento aggiuntivo relativo all'organizzazione comune di mercato, la cosiddetta OCM, di circa 4 miliardi di euro. Qui noi abbiamo, diciamo, le risorse fondamentali per disegnare il modello agricolo italiano dei prossimi anni. Quindi il lavoro che abbiamo fatto con le regioni, l'intesa che abbiamo approvato questa sera in Consiglio dei Ministri è cruciale perché va a definire fondamentalmente, a tratteggiare anche con i relativi finanziamenti, il disegno complessivo della prospettiva agricola italiana. Abbiamo lavorato fondamentalmente con le regioni su alcuni assi portanti, io li richiamo in maniera molto schematica, un investimento vero attorno al grande tema del ricambio generazionale delle nostre aziende, misure specifiche in favore dei giovani imprenditori agricoli, con una scelta molto precisa, maggiorare del 25% i premi ai giovani imprenditori agricoli under 40 italiani per 5 anni, con una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro l'anno faremo un intervento specifico e robusto da questo punto di vista. Un sostegno dedicato alle zone montane italiane. Noi sappiamo che in particolare in montagna l'agricoltura assume una funzione che va ben oltre il dato economico imprenditoriale fine a se stesso, assolutamente importante. L'agricoltura spesso, soprattutto nelle zone montane, è un grande bene pubblico, è un grande fatto che va oltre l'interesse privato. Abbiamo delle misure dedicate in particolare alle zone montane. Abbiamo lavorato come terzo grande obiettivo al grande tema della sostenibilità ambientale del modello agricolo italiano, in particolare con degli incentivi che vanno diciamo ad accompagnare i sistemi produttivi maggiormente sostenibili. Abbiamo lavorato su un altro grande asse dell'agricoltura italiana che è quello delle qualità. C'è una fortissima attenzione alle questioni legate in particolare al benessere animale e poi una misura consistente e assai significativa dei pagamenti diretti attraverso i cosiddetti aiuti accoppiati. Gli aiuti accoppiati per noi vengono definiti nella misura dell'11% del potenziale possibile, stiamo parlando di oltre 420 milioni di euro l'anno, che verranno dedicati ad alcuni settori cruciali, in particolare zootecnia, seminativi, piano proteico e olivicoltura. Come potete capire c'è anche una giusta composizione territoriale, un equilibrio tra le diverse esigenze del Paese e delle agricolture territoriali. Vi dicevo prima della maggiorazione importante che facciamo a sostegno del lavoro giovanile e degli imprenditori agricoli under 40. Voglio ricordare che compiamo una scelta non banale e cioè per la prima volta in questo Paese vietiamo a banche, assicurazioni, società immobiliari di poter usufruire della PAC. Sembra come dire un dato scontato, ma scontato non lo è, perché fino a qui banche, assicurazioni e società immobiliari potevano direttamente acquisire gli aiuti dei fondi PAC. Noi mettiamo un vincolo molto preciso e vietiamo a questi soggetti di poter accedere a questi finanziamenti. Aggiungo che facciamo una scelta molto forte anche qui a proposito della fascia alta dei pagamenti e cioè sopra i 150.000 euro di aiuti diretti facciamo un'operazione di sconto di taglio del 50%, questo per consentire un riequilibrio dei fondi a sostegno soprattutto delle piccole e medie imprese. Avrete poi modo, credo, di avere anche il dettaglio della proposta. Io sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto, perché è stato fatto sostanzialmente di grande concerto con le regioni, lo abbiamo fatto prima di altri Paesi e ci tengo a dirlo perché siamo partiti dopo altri Paesi europei e nell'intesa siamo arrivati prima e questo lo devo al lavoro che abbiamo fatto al Ministero e alle regioni. Mi pare un dato importante perché poter gestire nei prossimi sette anni oltre 50 miliardi di euro per l'agricoltura italiana penso che faccia parte dei grandi obiettivi di questo Governo. Mobilitare più risorse possibili, liberare più energie possibili, mettere in moto tutti i meccanismi che possono aiutare l'economia italiana e l'Italia complessivamente anche sul fronte occupazionale, imprenditoriale e territoriale. Grazie Ministro. Se consentite farei anche la presentazione dell'altro disegno di legge importante e significativo di questa sera che è la legge di delegazione europea. Il Governo con cadenza annuale predispone un disegno di legge che contiene le deleghe necessarie al ricepimento delle direttive europee e oggi è stato approvato in maniera preliminare questo testo e quindi il Sottosegretario Gozzi vi può fare comprendere l'importanza di queste deleghe che vanno ad arricchire l'ordinamento nazionale o a disciplinare ex nuovo alcuni aspetti della nostra vita economica, sociale e giuridica. Prego, Sottosegretario. Grazie. La legge di delegazione 2014 fa parte di un pacchetto che noi abbiamo collegato politicamente al semestre e di uno sforzo straordinario che il Governo sta facendo per migliorare il suo rapporto con l'Europa che si misura anche dal grado di ricepimento delle norme europee in Italia. Voglio ricordare che il Governo, il Presidente del Consiglio, ne ha fatto una priorità. Noi il primo marzo avevamo aperte 120 infrazioni con l'Unione Europea, oggi siamo scesi a 101 e certamente questa legge di delegazione europea ulteriormente contribuirà assieme ai due altre proposte di legge che sono già state approvate in prima natura alla Camera e ora sono in discussione nel Senato a continuare il miglioramento del nostro rapporto con l'Europa che è un po' l'altra parte di quello che avete appena detto con la presentazione del Ministro Martina. è un provvedimento che introduce in Italia, deleghe il Governo a introdurre in Italia delle norme molto rilevanti. La prima che parla da sé è il nuovo meccanismo di vigilanza bancaria, il nuovo meccanismo di vigilanza prudenziale che è distribuito tra Banca Centrale Europea per quanto riguarda la vigilanza diretta sui grandi gruppi o su quelli che hanno un effetto transfrontiero, cross border come si dice e in diretto attraverso nuove norme di vigilanza che la Banca d'Italia dovrà seguire alla luce del regolamento che ci accingiamo a introdurre in Italia. Altra norma molto importante è una fortissima semplificazione della valutazione di impatto ambientale per alcuni progetti pubblici e privati con le autorizzazioni a pacchetto per quanto riguarda specifici progetti, quindi con forte semplificazione per quanto riguarda l'attività delle imprese. Due provvedimenti molto rilevanti in materia di tutela della salute, la prima è relativa alla tutela della salute delle popolazioni in relazione al contenuto di radioattività delle acque potabili, la seconda alle norme fondamentali di sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione di radiazioni ionizzanti. Ci sono tutti aspetti di tutela salute ambientale con la quale noi ci mettiamo in linea con le disposizioni europee. L'ultimo è un pacchetto molto rilevante in materia di giustizia e lotta contro il crimine organizzato, perché introduciamo un pacchetto di sei decisioni quadri in materia di giustizia e diritto penale, tra le quali voglio segnalare la decisione di mutuo riconoscimento delle decisioni in materia di confisca dei beni confiscate alla mafia o alle criminalità transnazionali e le squadre investigative comune nella lotta contro il terrorismo, assieme ad altre disposizioni molto importanti che certamente non solo raffortano la lotta contro il crimine organizzato, ma raffortano anche l'azione che noi stiamo conducendo e concludo come Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione Europea, perché noi vogliamo raffortare le misure europee in questa materia. È evidente che saremo tanto più efficaci e credibili nell'ottenere i nostri obiettivi politici, se saremo anche rapidi e efficaci a introdurre le norme già esistenti. Grazie. Grazie. Se avete domande... Prego. Gabriele Martelloni, Red News 24. Oggi era atteso lo sblocca Italia. Se ci può dire qualcosa a che punto siamo, insomma, a quale linee di questo provvedimento molto atteso. Il Presidente ha illustrato le linee di guida, domani, cioè nelle prossime ore, insomma, deciderà lui come comunicarlo. Ci sono altri? Allora, la politica agricola comunitaria in Francia determina grandi scontri, grandi dibattiti per mesi e mesi. Speriamo che nasca un dibattito su questo importantissimo provvedimento in un settore che è l'unico che tiene, anzi che fa crescere l'occupazione e che ha fatto più di 30 miliardi di export nel 2013 e quindi è un settore veramente rilevante per la nostra economia. Quindi grazie e buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie.